Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla 17esima edizione dei Top Legal Awards. Io sono Riccardo Cagliati e a nome di tutto il team vi ringrazio per la partecipazione a questo evento. E qui con noi ai Top Legal Awards 2023, Cristiano Militello. Buonasera a tutti, buonasera Valentina. Sono lieto di inaugurare con voi il grande sforzo creativo che abbiamo fatto, cioè noi vorremmo stasera accompagnare quasi ogni premiazione con una canzone dedicata a voi. Scopriamo insieme qual è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo volare. E si vola. E si vola. Il concentrato di granità permanente. Siamo alla fine di questa intensa serata, 44 premi. Buona serata a tutti e grazie di essere intervenuti. Grazie a tutti.